ciao ragazze ciao ragazzi e bentornati in radio recensioni di bellezza oggi nella trasmissione che appunto vi sto registrando vi voglio parlare di un argomento che ho trattato un po di tempo fa e nel mio blog che ricordo essere www.recensionidibellezza.com e appunto trattavo l'argomento del make up per le over 40 barra 50 un make up che chiaramente doveva essere quasi un make up ringiovanente perché il problema a volte che riscontro e che capita anche a me di guardare nelle donne per strada ma anche tra insomma le mie amiche è quello proprio di vedere magari un make up non adatto alla loro età utilizzando prodotti colori texture non adatte alla loro età e quindi con questo diciamo con questa trasmissione oggi voglio un po riprendere questo articolo vedrò poi di cercare di inserirlo da qualche parte andandolo a condividere sui vari social questa trasmissione e vi farò appunto vedere quali erano insomma i consigli che io davo proprio in questa diciamo in questo articolo allora quindi diciamo il presupposto principale è che a mio avviso il make up dopo i 40 anni è un make up che deve essere molto molto ben ponderato perché un eccesso in un verso o in un altro quindi troppo troppo poco può determinare appunto un effetto o troppo diciamo estremamente troppo naturale o estremamente troppo artefatto l'uno e l'altro determinano che appunto un effetto poco gradevole per questo dico che nel make up la prima cosa secondo me da tenere sotto controllo è il giusto equilibrio quindi come e per giusto equilibrio vuol dire sia la giusta quantità ma anche saper dosare texture e diciamo effetti effetti che si vogliono dare sul proprio viso ma entriamo più nel dettaglio allora la prima cosa che non si può prescindere in maniera assoluta è la skin care quindi la skin care è un passaggio che non può essere saltato non può essere trascurato e di conseguenza è il primo diciamo la prima il fondamento proprio su cui si basa un ottimo risultato per il make up un attimo di un attimo di pausa eccomi qua ragazze e allora quindi vi dicevo il fondamentale è la skin care la skin care è un qualcosa che non può essere su cui non si può prescindere il la pelle deve essere ben detersa e ben idratata quindi tutti i passaggi devono essere effettuati della pulizia delle detersione e dell'idratazione del nutrimento quindi sia la mattina che la sera è qualcosa che per quanto possa diciamo apparire noioso è qualcosa che fa la differenza poi sul anche sulla resa del make up anche il fatto di effettuare dei trattamenti come maschere o scrub a diciamo a rotazione durante la settimana va a illuminare la pelle crea un effetto quindi di una pelle più levigata e questa sarà la base su cui poi andremo ad appoggiare tutti i prodotti per il make up quindi skin care e trattamenti diciamo mirati per in base all'età che possono essere quindi maschere scrub peeling tutte queste cose sono cose necessarie per mantenere una pelle nello stato ottimale chiaramente quello che io dico sempre anche quando magari svolgo una consulenza è che bisogna essere un po realistici su quello che andiamo su quello che poi andremo a ottenere le creme cosmetiche tutti i prodotti cosmetici non possono andare a diciamo migliorare in maniera proprio sostanziale un l'aspetto della della pelle quindi quasi avendo un effetto botulinico insomma quello che si può avere attraverso la medicina estetica quindi bisogna imparare che la cosmesi i prodotti e quindi prodotti da skin care sono necessari per mantenere il giusto equilibrio e della pelle perché la pelle chiaramente se troppo secca tende a far evidenziare rughe d'espressione rughe del passare d'età grigiore del viso secchezza e quindi quant'altro al contrario se cioè l'idratazione cioè se è troppo idratata quindi in base al tipo di pelle e magari si evidenzieranno lucidità o altre cose sicuramente parlando di una pelle di un over 40 e andando incontro anche ai dagli sbalzi e degli cambiamenti ormonali la pelle tenderà a essere più sul secco quindi bisognerà agire più su un aspetto di nutrimento idratazione e luminosità andiamo poi a vedere però quale sono diciamo i primi diciamo il primo prodotto che potrebbe essere molto utile per un diciamo per un make up ben riuscito l'uso del primer perché il primer può diciamo aiutare perché un buon primer può andare a uniformare l'incarnato quindi andando a quasi levigare pori dilatati o micro rughe quindi sempre cerchiamo di capirci parliamo di cose molto piccole quindi parliamo di cose che non c'è sono c'è nel senso quel prodotto va a minimizzare gli inestitismi ma le cose molto piccole è chiaro che una ruga profonda non può essere minimizzata dall'uso del primer però il primer crea un'ottima base su cui poi andare a lavorare e su cui andare a lavorare per esempio con i prodotti appunto per la base viso un ottimo primer per esempio che io sto utilizzando in quest'ultimo periodo è quello della linea mark il magic che dell'avon che devo dire che pur essendo un make up un primer siliconico devo dire ha un ottimo effetto perché proprio va a levigare la pelle e quindi anche l'effetto del fondotinta rimane proprio più aderente un'altra secondo me un'altra caratteristica o comunque un'altra peculiarità che deve avere il makeup delle over 40 è quello del less is more cioè il meno è meglio ma voglio farmi capire molto spesso mi capita di vedere persone che magari utilizzano lo stesso makeup quando avevano 20 anni e quando ne hanno magari 60 e anche oltre purtroppo con il passare dell'età dobbiamo un po andare anche a diciamo a scendere un po a compromessi cioè quello che ci potevamo permettere a 20 a 30 anni non ce lo possiamo più permettere a 40 e 50 questo non significa che non possiamo truccarci questo significa che dobbiamo trovare il nostro nuovo equilibrio e quindi io vi suggerisco appunto di diciamo farvi anche aiutarvi anche a far studiare il vostro viso e la vostra situazione da un professionista dei consigli per realizzare poi in autonomia il vostro makeup oppure se volete contattatemi perché insomma sono anche lieta di potervi aiutare in questo e in base alle vostre caratteristiche della vostra forma del viso ma anche della situazione della vostra pelle darvi un consiglio su quali sono magari i prodotti o il makeup più adatto per voi quindi fatevi aiutare su come quali sono diciamo le caratteristiche del vostro viso quindi lo stato appunto anche della vostra pelle ma soprattutto fatevi aiutare su come realizzare un makeup a casa in autonomia però in base appunto alle vostre vostre caratteristiche un'altra cosa da curare molto bene sono le sopracciglia perché le sopracciglia rivestono questo ruolo così importante perché sono la cornice del nostro viso e sono appunto mettono in risalto molto bene gli occhi ora che voi siate brave a curarvele da sole o che appunto andiate dall'estetista per farvele sistemare una volta che siete a casa però dovete essere in grado un po di valorizzarle da sole ora so che esistono tante tecniche anche di trucco permanente per cui poi non c'è nemmeno necessità di andare a diciamo a evidenziare ulteriormente le sopracciglia perché ricordiamoci che è una sopracciglia troppo marcata troppo definita troppo delineata io ho l'immagine di moiro orfei davanti adesso mi dispiace cioè ma crea un effetto caricatura bruttissimo orrendo mi verrebbe da dire stravolge tutti le stravolge tutta la struttura del viso il makeup non deve essere una caricatura deve andare a enfatizzare la bellezza naturale della cioè del nostro viso quindi da questo da questa da questo sotto questo punto di vista io vi consiglierei di comunque farvi aiutare per la forma da un esperto perché un esperto vi aiuterà a trovare la forma giusta delle sopracciglia lo spessore la forma giusta che vi valorizza perché tanto per dire una sopracciglia non curata oltre a dare un aspetto molto disordinato ma crea un occhio stanco un occhio ancora più invecchiato quanto invece una bella sopracciglia ben definita con uno sguardo quindi ben aperto dia quasi un effetto voglio dire lifting ma comunque molto più disteso uno sguardo più disteso e luminoso a casa quello che potete fare invece è utilizzare dei prodotti in base alle vostre esigenze in polvere a matita sicuramente quello che vi posso consigliare un prodotto a lunga tenuta quindi ci sono matite a lunga tenuta che con cui si ottiene un ottimo risultato con adesso sul mercato ce ne sono veramente tantissime con la micromina waterproof oppure ancora più semplice un semplice ombretto marrone opaco freddo con quello quindi una colorazione fredda non che vada sul caldo quindi non i marroni che vanno sul bronzo deve essere proprio un marrone freddo e semplicemente con un pennello dalla punta tagliata quindi quella con la punta angolata per elevare un po di prodotto e andare a lavorare le sopracciglia questo è il mio sistema per esempio quello che utilizzo quasi sempre io perché io comunque ho le sopracciglia folte e quello che voglio andare a fare è solamente andare un po a diciamo a ricreare un po di definizione magari c'è qualche buchetto magari c'è qualche peletto mancante e quindi vado a ricreare un po di definizione vado poi magari a sigillare il tutto con un po di lacca utilizzando un pennellino uno con uno scovolino proprio da sopracciglia quindi un po di lacca e andate a fissarle o ancora meglio un po di gel di aloe io il gel di aloe lo metto ovunque quindi magari ecco pochi prodotti bastano per dare un buon effetto alle sopracciglia non dimenticatevi mai però scusate scusate un incidente di percorso siccome sono con le cuffie ho cambiato posizione e sono volate scusate allora vi stavo dicendo una cosa che non dovete mai dimenticare è di curare diciamo l'arcata sopraccigliare con un ombretto illuminante o un illuminante in crema che avrà diciamo il dono di andarvi ad aprire lo sguardo ma veniamo ai prodotti per la base viso allora prodotti per la base viso bisogna vedere un po come la situazione della vostra pelle sicuramente se avete appunto utilizzato un primer quello vi aiuterà a far aderire anche molto bene il il prodotto che può essere fondotinta liquido compatto bb cream quello che insomma amate di più quello che vi consiglio nelle nelle pelli mature è sicuramente di procedere con diciamo non con stesure troppo pesanti quindi preferite magari una stesura più leggera preferibilmente andando a lavorare il prodotto o con una spugnetta o direttamente con un pennello da fondotinta io non uso quella lingua di gatto vi dico la verità e raramente utilizzo anche le spugnette il mio pennello preferito è un pennello a setole molto dense tagliato in diagonale e con quello riesco a dare con poco prodotto un'ottima coprenza quindi magari sui se riesco vi cercherò di inserire magari il i pennelli che io vado utilizzare cosa cosa però importante se avete delle discromie è chiaro che quelle le dovete andare a correggere ovviamente non con il fondotinta ma con un correttore adatto e io per esempio ho delle bruttissime macchie purtroppo mi hanno lasciato il sole e dei medicinali che che ho utilizzato di conseguenza ho delle macchie sul viso che in estate si accentuano moltissimo anche in inverno si vedono ma in estate si accentuano moltissimo quindi quello che io ho imparato a fare è lavorare diciamo per strati per layer quindi andando prima a nascondere le discromie e poi andare a lavorare con il fondotinta perché il fondotinta deve andare a creare uniformità non può avere un po cioè non dovrebbe avere un effetto coprente come posso dire troppo pesante perché poi di solito questa tipologia di fondotinta anche se oggi ci sono dei fondotinta molto molto idratanti allo stesso tempo molto coprenti poi vi citerò qualche qualche brand però il fondotinta deve creare una armonia quindi deve andare a creare la base non può avere quell'effetto correttivo quindi io il consiglio che vi do è lavorare bene prima le discromie che possono essere macchie del viso sulla over 40 cuperose pori dilatati e non so adesso mi vengono in mente occhiaie ovviamente le occhiaie con dei prodotti specifici sapete benissimo che esistono dei correttori colorati che hanno un effetto correttivo in base alla tipologia di imperfezione e che quindi si può andare a diciamo lavorare agevolmente su queste zone allora i miei preferiti in assoluto e ormai da parecchio tempo sono i correttori in stick di vegas cosmetics li amo perché hanno delle cere particolarmente che vanno ad aderire sulla pelle quindi il prodotto rimane proprio lì dove l'avete applicato non migra non va in giro quindi e si può lavorare benissimo sia con le dita perché anzi con le dita il calore della pelle queste cere si si vanno a sciogliere oppure con un pennello credetemi che il risultato è veramente veramente molto molto buono e io con questa diciamo con questa tipologia di correttori riesco a coprire bene molto bene sia le occhiaie sia le macchie dopo vado ad applicare il mio correttore scusate di correttore il mio fondotinta ripeto in base alla tipologia di viso e anche alla vostra situazione perché per esempio c'è mia mamma che ha una pelle molto bella è un over 60 e ha una pelle meravigliosa dal colorito uniforme è chiaro che lei veramente basta poco per subito avere una base ottimale quindi per esempio può essere un'idea molto valida una BB cream e per esempio vi cito sempre di questa di questo brand Vegas Cosmetics la BB cream con acido ialluronico che quindi diventa sia trattamento che che è appunto diciamo base correttiva ma anche il fondotinta compatto ultra coprente veramente un fondotinta con delle caratteristiche straordinarie che ha la straordinaria capacità di avere un'alta coprenza ma allo stesso tempo un effetto di idratazione grazie alla presenza della vitamina E quindi non andremo ad avere quell'effetto come vi dicevo asciutto secco che purtroppo molti fondotinta coprenti hanno un'altra soluzione molto interessante per esempio è il Transformist di Astra che è un fondotinta addirittura fondotinta e correttore quello è un prodotto low cost che io amo particolarmente perché ha veramente questa caratteristica cioè grazie agli estratti vegetali mi sembra che c'è anche degli oli all'interno adesso vado un po' a memoria però riesce ad avere un effetto sia uniformante che correttivo ed è anche ed è anche molto fluido cioè nel senso non è uno di quei ripeto fondotinta che poi vi nel tempo vi danno quell'aspetto un po' gessoso un po' secco il tutto a mio avviso poi va settato con una spolverata di cipria e la cipria per quanto riguarda diciamo i prodotti da da makeup per le over 40 è un prodotto a cui bisogna stare molto molto attenti perché la cipria una cipria non di buona qualità può creare veramente un grande danno quindi texture ultra fine possibilmente con aggiunta di oli idratanti andare a fissare solo dove serve quindi normalmente si va a fissare solamente il contorno occhi per quanto riguarda invece i correttori io insomma vi ho detto io preferisco i correttori in stick ma anche il correttore in crema va benissimo perché sotto le occhiaie la palpebra il sotto diciamo il sotto occhio di un over 40 un over 50 non è sicuramente quello è fresco e riposato di una ventenne e quindi bisogna stare molto attenti a come si applica il prodotto un consiglio una perla che vi butto lì è applicate il correttore liquido prima del fondotinta lo lasciate lì un pochino asciugare dopo che avete steso tutto il fondotinta andate sul correttore che nel frattempo si sarà un po' asciugato quindi non sarà più così tanto liquido e potrete lavorarlo quasi come una crema con il dito anulare o se volete con insomma un pennello apposito andato a stenderlo con piccoli tocchi quindi non andandolo a tirare ma andandolo a pressare facendo bene attenzione dove avete le rughette vedrete che dopo avrete un effetto lifting bellissimo andate andrete poi con un piumino con la cipria a fissare molto bene questa parte successivamente con un pennello più grande andate a eliminare l'eccesso fate questa prova e poi mi direte io sono stra sicura che avete un effetto meraviglioso ok veniamo al diciamo alla settore ombretti perché questa trasmissione sta venendo veramente molto lunga credo insomma perché d'altronde c'è molto da cui parlare allora sicuramente a mio avviso makeup come smokey eyes o trucchi troppo di effetto su un occhio over non sono l'ideale e quello che consiglio sempre io sono ombretti satinati o matte con cui potete andare a lavorare o un'alternanza di questi colori però andate su tonalità della terra calde che vi danno luminosità quindi sì agli ombretti colore albicocca sui toni del rosato appunto che vi dà quell'effetto salute si può andare poi magari a lavorare bene la rima in fraccigliare con una matita morbida che non va a sottolineare lo sguardo come un eyeliner duro ma con una linea netta ma andandola a lavorare con una matita molto morbida che comunque va a evidenziare lo sguardo ma che potete poi lavorare e quindi sfumare avrete un ottimo risultato basterà poi aggiungere una ombreggiatura nella piega dell'occhio con un colore sul bronzo, sul marrone sempre io vi suggerisco sull'opaco perché andiamo a non caricare troppo l'occhio con colori magari troppo sgargianti ricordatevi sempre di applicare un illuminante quindi un illuminante all'interno dell'occhio perché otterrete un effetto molto bello quasi un occhio languido e poi una bella passata di mascara il vostro mascara preferito e vedrete un ottimo cioè riuscirete ad evidenziare lo sguardo ma allo stesso tempo il vostro sarà uno sguardo fresco e luminoso per quanto riguarda invece blush o contouring allora io sinceramente il consiglio che do alle donne over 40-50 è di non andare troppo sulla definizione perché è chiaro che noi l'effetto che vogliamo dare è di luminosità quindi il mio consiglio è un bel blush luminoso o opaco ma dalle tonalità pesca calde che comunque vi danno una bella luce sul viso proprio se volete andare un pochino si può utilizzare un bronzer e quindi andare a scaldare un po' l'incarnato ricordatevi che il bronzer poi però va tirato anche un po' verso le tempie quindi non utilizziamo il bronzer come se fosse un prodotto da contouring per quanto invece riguarda il rossetto io direi che si può benissimo dare il via a tutti quei colori belli, brillanti che vi danno subito luce al viso e quindi ecco su per quanto riguarda i rossetti non mi sento di darvi particolari indicazioni cioè sicuramente non sono belli quei rossetti dai colori rosati sul metallizzato ecco io direi no a tutti i colori metallizzati perché sulle over 40 i colori metallizzati fanno veramente vecchio e no anche ai colori ambrati direi che un bel color rosa malva ma anche colori belli un pochino più vibranti come anche usare un bel rosso su un make up di questo tipo è sicuramente un tocco di classe uno dei rossetti che ultimamente sto utilizzando sono dei rossetti in polvere che mi stanno piacendo moltissimo e sono gli Epic Lip Powder Pen dell'Avon sono dei colori intanto bellissimi perché sono belli, vibranti, hanno delle colorazioni fantastiche ma poi sono in polvere, ma una polvere cremosa? cioè nel senso voi pensate magari un prodotto in polvere che vi vada in carta pecoriera le labbra? no, intanto le labbra vanno trattate con un buon balsamo labbra prima di applicare il rossetto in caso si può togliere l'eccesso con una velina ma predilite sempre burrocacao più sull'effetto ceroso che sull'effetto burroso perché il ceroso vi dà anche un effetto primer quasi va quasi anche a levigarvi un po' la pelle delle labbra a quel punto andate a lavorare o con una matita labbra o con un rossetto però con piccoli tratti, quindi non andate direttamente con il rossetto perché se andate direttamente con il rossetto depositerete una quantità enorme di prodotto invece andandolo a lavorare prima con il contorno labbra e la matita io vi consiglio sempre un contorno labbra di una colorazione malva perché è quello della colorazione delle vostre labbra e non potete sbagliare poi andando ad applicare altri colori sopra e poi andate con il pennellino in piccoli tocchi ad applicare il rossetto per quanto riguarda le tipologie di rossetto ce ne sono una quantità ne sto scoprendo tantissime soprattutto adesso con la mascherina diciamo c'è stata questa difficoltà di applicare sotto il rossetto ma in realtà esistono rossetti che possono tranquillamente essere usati sotto la mascherina per esempio quelli che vi ho citato della linea Mark di Avon in polvere sono ottimi perché poi si vanno completamente a fissare e avendo il loro pennellino voi potete andare a lavorare avete un prodotto che potete utilizzare sia per appunto cioè andate a utilizzare direttamente con il suo pennellino quindi non dovete portarvi altri accessori anche dietro per un eventuale ritocco poi ci sono per esempio vi cito le permanent lip di Vegas Cosmetics che sono appunto delle penne con un rossetto tinta che quindi potete andare a definire le labbra e a riempirle con un effetto appunto tinta labbra molto bello che grazie appunto all'estratto di aloe, di camomilla, la vitamina E e altri estratti vegetali che ora non ricordo però mantengono un'ottima idratazione delle labbra e quindi avrete appunto delle labbra con questo velo quasi cioè come se quelle fosse proprio il colore delle vostre labbra naturali è molto bello come effetto poi ci sono i rossetti liquidi quelli per esempio mi viene da ricordare l'Hypnotize di Astra che sono degli ottimi prodotti perché sono oltre ad essere dei rossetti appunto liquidi che però una volta asciutti hanno un effetto vellutato meraviglioso e non si spostano quindi per esempio adesso vi voglio dare una chicca proprio buttarvela lì con questi rossetti potreste addirittura ricreare un make up completo perché questi rossetti sia questi Hypnotize di Astra ma anche i lip cream di Vegas Cosmetics che sono appunto dei rossetti in crema possono essere utilizzati sia per andare appunto a riempire le labbra ma avendo questa consistenza cremosa che si sfuma peraltro molto molto bene possono essere utilizzati come base ombretto ma anche come blush appunto andando quasi poi a enfatizzare e quindi a creare una base per andare poi ad aggiungere il prodotto in polvere in questo modo l'effetto lunga tenuta sarà ancora maggiormente garantito quindi con un prodotto si può ricreare quasi un make up look completo ragazzi io scusate oggi se anche oggi è stata una trasmissione un po' travagliata ma ci tenevo a darvi questi consigli allora questi sono i consigli che io do per le donne che chiaramente superata una certa età vogliono ancora sentirsi belle affascinanti, attraenti e che però a volte sbagliano sbagliano su delle cose che magari viene dettata più dalla moda che da quello che noi realmente possiamo fare per andare a enfatizzare le nostre caratteristiche io dico sempre che diciamo seguire la moda è bello però comunque bisogna anche cercare di capire quello che è più adatto a noi è un po' come indossare un vestito che però in realtà non ti sta bene perché non va bene per te non va bene per la tua taglia non va bene per la tua età e quindi avere degli accorgimenti che invece ci aiutano a valorizzare il nostro viso a farlo apparire più luminoso più giovane può il make up in questo caso essere un validissimo aiuto proprio per migliorare l'aspetto delle donne e infatti l'articolo era voglio citarvelo perché era proprio insomma carino anche come era concepito make up over 50 più giovane senza bisturi perché è la verità cioè un buon make up può fare molto di più di una operazione di lifting o mini lifting insomma operazioni che comunque sono sempre delle operazioni e che comunque insomma con tutta la sicurezza che oggi abbiamo però comportano sempre dei rischi quindi queste sono ragazzi i miei consigli spero che ragazzi e ragazze spero che vi siano stati utili che li possiate mettere in pratica se li mettete in pratica se li metterete in pratica fatemi sapere cosa più insomma vi è piaciuto cosa avete utilizzato cosa state mettendo in pratica appunto per diciamo per enfatizzare appunto per dare al vostro look un aspetto più giovanile io vi saluto ragazzi ci vediamo alla prossima puntata spero insomma che questo questi podcast vi possano piacere vi possano insomma essere anche di ispirazione perché poi la mia la mia passione è quella di condividere le cose che mi piacciono ma anche quelle le cose di cui ho imparato nel senso che questi io non ho fatto scuole di makeup artist queste sono le cose che io sto mettendo ho messo in pratica durante proprio quello che faccio io e quindi lo condivido con voi ragazzi voglio farvi un applauso perché siamo arrivati insomma oggi anche oggi verso la fine della puntata vediamo un po' se ho degli applausi eccoli sono arrivati grazie grazie degli applausi va bene ragazzi allora io vi saluto e spero proprio insomma di risentirvi presto con una prossima puntata vi auguro un buon inizio settimana e ci sentiamo prestissimo a domenica prossima un bacio grande ciao